Ragusa Lentini-Catania, come anticipato, rinviata la gara in attesa della decisione del Tarlazio? Come avevo anticipato, al solito inascoltato, l'ANAS, dopo i primi due rinvii, ha deciso che la nuova scadenza per il progetto del raddoppio della Ragusa Lentini-Catania è fissata per il prossimo 4 luglio. Sul progetto pesa evidentemente il ricorso presentato al Tarlazio da alcune imprese aderenti a Lancia e Sicilia che lamentano che si tratta di un appalto in perdita e cui i valori sono sottostimati di almeno il 40% rispetto al costo effettivo dell'opera a causa dell'aumento del costo dei materiali necessari a realizzare la stessa. E il Governo regionale, che in questi anni ha tentato di accreditarsi i meriti dell'opera che fa, non opera, non interviene e aspetta in silenzio che il Tar del Lazio, nella terza decada di giugno, si esprima sul ricorso presentato, pronto ad addebitare all'ANAS ogni responsabilità in caso di sentenza favorevole ai ricorrenti. Sono passati 5 anni da quando l'attuale Governo, contestando il precedente, aveva garantito e assicurato l'inizio dei lavori, ma possiamo dire che in questi anni sono passati come i precedenti, anzi peggio dei precedenti. Almeno nella scorsa legislatura, sul mio ordine al giorno, sono stati stanziati 217.700.000 euro per poter eseguire lavori e mettere in sicurezza quella che comunemente viene chiamata la strada della morte per i molti incidenti che sono accaduti in questi ultimi anni. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.